Ok, ora entriamo all'interno del Uevo per dare un occhio a come abbiamo sistemato tutto il sistema elettrico ed elettronico sul Uevo. Eccoci qua all'interno del Uevo per fare un focus sull'impianto elettrico ed elettronico. Allora, innanzitutto quello che arriva dalla testa dell'albero, quindi quel cavettino avionico che arriva dal sensore di testa d'albero e l'altro cavettino avionico delle luci di via escono qua in alto all'albero e ci sono due spinotti di connessione rapida, sempre i P67 e diversi tra di loro ma notare che non si possa sbagliare, vengono rinviati a popa via passando nell'angolo, sopra il quadro elettrico e vanno nel tunnel per le connessioni. Sempre qui nel triangolino a prova via della chiglia dell'albero abbiamo il log e l'eco e il sensore bussola. Anche questi vengono rinviati verso l'alto, log ed eco si staccano e vanno nella loro cassettina dove esce il basso NKE, insieme alla bussola, anch'essi vengono rinviati a popa per andare a fare le connessioni. Sempre qui nel quadrato abbiamo le antenne del GPS e l'antenna dell'HF GPS dell'NKE, in questo caso, il VHF, il barometro, lo splitter che serve per poter utilizzare l'antenna in testa d'albero sia per il VHF che l'AIS. L'AIS in questo caso il cliente ha scelto un mazzute che funge sia da AIS che GPS, quindi ci ha ottimizzato lo spazio prendendo un solo strumento. da questa parte abbiamo quindi l'antenna del telecomando del pilota che arriva alla sua ricetrasmittente. Qui sotto nel tunnel abbiamo tutto ciò che è la parte di connessioni elettriche quadro elettrico, quindi qui abbiamo stacca batterie, il quadro elettrico, il monitor delle batterie e andando sempre qui sotto in fondo abbiamo il giropaeto, il pilot, quindi il cervellone del pilota, una fila di scatolette, una sola, dove abbiamo il filtro bus, l'alimentatore di cdc, due scatolette di connessione per NKE e il box wifi, le due batterie e in fondo si intravede il pilota automatico. In questo caso abbiamo aggiunto due prese USB, quindi una classica a cilindro e una invece con due presettine USB classiche.